Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi tutto, visto che lo dico sempre alla fine del video, stavolta ve lo dico all'inizio, se vi va iscrivetevi al canale, vi dico subito che questo periodo causa chiusure e tutto quanto potrebbero esserci debito o meno, ahimè, ma recupererò ad aprile quando finalmente si potrà avere una vita un po' più stabile. Ad ogni modo, oggi parliamo di una delle mie ultime letture, che è questo fumetto qui, un manga Vampiriz. Il titolo in realtà è un gioco di parole tra la parola Vampire, Vampiro e Perth, da pochissimi in Italia per la Dynamite Manga, al costo di 12,90€. Visto l'hype intorno a questo fumetto e il tema, io ero partita con aspettative altissime e, insomma, ahimè, non tutte perfettamente realizzate. Comunque, andiamo a vedere innanzitutto la cover, che è questa qui, come vedete con la parte di loro due lucida. Questa è la costa, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, ok, e questo è il retro. Il fumetto ha un formato più grande dei soliti manga ed ha circa 160 pagine. Prima cosa sicuramente da dire è il costo per le pagine che sono, per essere un manga bianco e nero, è sicuramente notevole. Vi mostro qualcosa dell'interno, eccolo qui. I disegni sono magnifici. Ecco, questo è sicuramente un altro dei motivi che mi ha avvicinato a questo fumetto, perché i disegni mi piacciono veramente tantissimo. Vi mostro qualcos'altro. Eccoli qua. Di cosa parla questo fumetto? Il fumetto racconta di Chika, che è una ragazzina di 14 anni, giapponese, e si trova all'inizio del fumetto al funerale della nonna. Nonna che le ha sempre detto questa frase, che è sarà il cuore a indicarti la persona giusta. Al funerale della nonna, lei incontra questa ragazza bionda qui, straniera, che si rivela essere un vampiro. Vampiro che si praticamente piazza a casa sua, ammalia i genitori di Chika e si praticamente appunto piazza a casa di Chika. Vampiro di cui praticamente lei si innamora immediatamente. Che immediatamente si nutre del sangue di Chika. Questa è l'incipit della storia. Chika in realtà non sa molto di questa ragazza, di questo vampiro, se non che è evidente che nasconde dei segreti. Questo è chiaro. Malgrado le dica subito di essere un vampiro, sin da subito si capisce che questa ragazza appunto, che questo vampiro nasconde decisamente dei segreti. L'idea di base, sapete, insomma, chi mi segue sa che io sono amante dei vampiri, quindi l'idea di base mi piaceva tantissimo. Parte anche da con un po' di stereotipi, però li propone in maniera sicuramente nuova e anche molto divertente al lettore. Quindi tutta la prima parte mi è piaciuta molto, proprio perché malgrado appunto parte da scene, non viene comunque viste riviste all'interno delle dinamiche dei duo essere umano-vampiro, però lo fa sicuramente in maniera nuova e divertente. Cosa mi ha convinto meno di questo fumetto? È che malgrado appunto la prima parte mi sia piaciuta e malgrado nella seconda succedano anche degli sconvolgimenti nella storia, che non vi dirò ovviamente perché sarebbero spoiler, e subentrano nuovi personaggi e nuove situazioni che un po' rivoluzionano anche la storia. Nell'insieme ho trovato la storia molto lenta, non perfettamente brillante. I rioni che sconvolgono un po' la trama della storia sono raccontate in maniera così accattivante da avermi convinto appunto nell'appassionarmi a questa storia. Peccato perché i disegni sono sicuramente meravigliosi, però la storia secondo me non è allo stesso livello. Non è un fumetto brutto, assolutamente. Anzi, è un fumetto molto carino, però che non brilla. Ecco, mettiamola così. Continuerò questo fumetto? Probabilmente no. Non per la storia, ma probabilmente per il costo. Perché se questo fumetto fosse uscito con un costo classico dei volumetti manga a cui siamo abituati, probabilmente, visto il tema vampiri, avrei continuato a essere andata avanti con i volumi successivi. Avendo un costo secondo me notevole, perché insomma abbiamo 160 pagine circa, per praticamente 13 euro, è un libricino senza neanche sovraccoperta né niente, e non andrò avanti con la lettura. Ve lo consiglio, ecco, se siete amanti dei vampiri e volete qualche dinamica un po' diversa rispetto al solito, sicuramente è una lettura originale, divertente, carina. Però ecco, non vi aspettate storie stravolgenti e super coinvolgenti. Peccato, probabilmente, sicuramente, questo fumetto si riprenderà con i successivi e sicuramente migliorerà, perché le premesse, soprattutto sul finale, ci sono tutte per rendere la storia più accattivante per il lettore, però io, ripeto, non andrò avanti. Se invece voi lo avete letto e avete intenzione di leggere i successivi, fatemelo sapere, quando avete letto i successivi, fatemi sapere che cosa mi sono persa, magari mi convinco a prendere anche i due. Peccato perché, sapete, è la mia passione per i vampiri, ma, ahimè. Recensione veloce veloce, vi porterò questo periodo video un po' più rapidi, un po' più veloci, visto tutto il caos. Mi capiranno? Fatemi sapere, anzi, parliamo un po', fatemi sapere come state vivendo questo periodo, lasciatemi un commentino sotto, insomma, teniamoci compagnia l'un l'altro. Questo, per questa recensione è tutto, se riesco, torno la prossima settimana, speriamo, incrociamo le dita, con la recensione di qualcos'altro, perché sto leggendo tanto in questi giorni, quindi sicuramente vi porterò altre recensioni, e altre recensioni vampirische, perché sto leggendo Crave, e ve ne voglio parlare. Comunque, questo è tutto, io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!